Nell'acqua è presente una concentrazione di 375 unità di escherichia coli, batteri presenti soprattutto nelle feci. Il limite massimo previsto dalla legge di 500 non scattano così i divieti di balneazione sulla spiaggia di San Leone ad Agrigento, ma la situazione non lascia tranquilli. Le analisi sono state presentate dalle ammiente nell'ambito del progetto. Goletta Verde monta la protesta dei bagnanti. Marisa Vitellaro. E' sporco, è sporco, bicchieri di carta, c'è di tutto. Angela Di Caro. Io evito di mandare mio figlio in acqua, punto a punto per evitare che possa incorrere qualche infezione. Rino Putrone. In alcuni tratti, qua si lascia a desiderare, ma abbiamo alcuni tratti di spiaggia che le è una meraviglia. Sotto accusa finiscono soprattutto gli scarichi a mare. Il comune insieme ai gestori del servizio fognario ha avviato a più riprese una serie di verifiche. Si aspettano adesso gli interventi per migliorare la qualità del mare, del suggestivo litorale agrigentino. Grazie. 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 Grazie.